Siamo qua ancora a Palligi e ci torneremo quando ci sarà la sentenza. Vogliamo ammettere che venga messa fine a questa scandalosa protezione degli assassini che da 40 anni se la spassano nei bistrò sulla Senna. Dobbiamo tutelare la dignità di 60 milioni di cittadini italiani, dei familiari delle vittime e di tutto il Paese perché l'Italia ha emesso delle sentenze nei confronti definitivi ed è ora che vengono rispettate anche da uno Stato europeo come la Francia. L'Associazione Carabinieri in sezione di Bergamo è qui per chiedere alla Corte francese di porre fine a una ferita che ormai sanguina da più di 40 anni in un solo modo con l'estratazione. Grazie a tutti.